Dunque Fiorillo ha deciso, ha sciolto le residue riserve. Contratto quadrennale con la Salernitana, neopromossa in seriale, ormai ex capitano del Delfino, lascia così il Pescara dopo 7 stagioni e 224 presenze. È il record superato in tema di portieri, il compianto Gino Dicenzo. Per la sostituzione diversi nomi, Mirko Pigliacelli, classe 93. Sarebbe un ritorno dopo le esperienze nel 2013, appena sei mesi e successivo passaggio alla regina, e nel 2017 otto presenze da titolare a gennaio 2018, il trasferimento alla Provercelli. Da tre stagioni in Romania nel Craiova, ora il grande desiderio di tornare in Italia, soprattutto a Pescara, si sta ragionando sul prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B del Delfino. Caramello, il suo agente fiducioso. Le altre opzioni, Bindi del Pordenone, Pisseri dell'Alessandria, ma nelle ultime ore ha preso sempre più quota il trentenne pescherese Alessandro Iacobucci, cresciuto nell'Angolana, attualmente svincolato dopo il triennio di Frosinone. Sempre in B, qualche presenza in A col Parma, un solo campionato di C nel sud di Tirol dieci anni fa, allenatore Giovanni Stroppa. Nel frattempo manca solo l'annuncio per il trentaduenne, difensore Gianmarco Ingrosso, ex Cosenza e il centrale Salentino, arriva dal Pisa. Firmerà un biennale. In Toscana, il giovane attaccante della primavera, SEC classe 2004. Salirà così a sei il numero di difensori centrali a disposizione di Auteri. In Grosso, Drudi, Ianes, frascatore, utilizzabile anche da laterale mancino il Baby Veroli 2003 e l'uruguayano Elisalde, che però sembra destinato a partire. Con le cessioni di Fiorillo, Scognamiglio, Masciangelo, Sorensen e Crecco, Ineo, Biancazzurri, Zappella, Cancellotti e Rasi, un reparto arretrato di fatto radicalmente rinnovato.